è un fumo di merda bravo, meglio di lì fra perché dopo la giri è fuori palle meglio su che casino che ha fatto la roba qua se non la tiri lì e te la ritravi tutta in paese giusta la roba qua se non la tiri lì e te la ritravi tutta in paese